Cari amici, buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, sabato 15 luglio. Io devo essere sbagliato, ma proprio devo essere sbagliato. Oggi sto per dire una cosa che mi creerà un sacco di pasticci, penso anche con molti di voi, e riguarda i femminicidi. Oggi il Corriere della Sera, che ha addirittura una sezione apposta, la ventisettesima ora che si occupa delle donne, dei femminicidi, come se fossero una categoria a parte rispetto agli uomini. Ma comunque sia, oggi il Corriere della Sera dedica pagina 2, 3 e il fondo di Gian Antonio Stella alla questione dei femminicidi. Nel frattempo, ieri, che cosa è successo in Egitto, ma anche sulla sperata delle moschee a Gerusalemme? Cosa è successo? È successo che un uomo, urlando all'Akbar, cioè Dio, Allah è grande, ha preso e uscito dal mare, vestito di tutto punto, cioè con un gizio e una maglietta nera, e ha detto via gli egiziani, prima di tutto. E poi è andato a cercare le donne. A cercare le donne ha preso un coltello e ne ha fatte fuori, accoltellandole sul petto due, sangue da tutte le parti, e ne ha prese altre quattro e ha accoltellato altre quattro, fino a quando è stato bloccato la sicurezza dell'albergo di lusso di Urgada, in Mar Rosso. Il suo obiettivo erano le donne. Questo, secondo me, è un femminicidio culturale, religioso, islamico, cioè quello di considerare le donne essere inferiori, le donne che si mettono in bikini addirittura da uccidere, e sul Corriere io vedo questa storia, come sugli altri giornali, trattata come una storia, adesso ci siamo arrivati, di terrorismo, ma fino a poco tempo fa era un pazzo, era un terrorista islamico, era un lupo solitario, no, è un fondamentalista islamico che ha ammazzato delle due donne, guarda caso due donne tedesche. Allora, ritorno al femminicidio del Corriere della Sera, e leggo il femminicidio del Corriere della Sera, insomma, a due pagine sullo scandalo del femminicidio. Ieri, per la verità, c'è stata una di quelle tragiche coincidenze, tragiche, mostruose, per cui quattro, mi sembra, donne, addirittura forse cinque, anche una coppia, una di 81 anni, l'altra di 79 anni, hanno visto l'uomo che uccide la donna e poi ha provato a uccidersi. E questo rientra nella categoria dei femminicidi, ed è una grande emergenza quella del femminicidio, non il terrorismo islamico, ma il femminicidio. E sul femminicidio facciamo le prime due pagine del Corriere della Sera, non sulla cultura islamica, fondamentalista islamica, che vuole questo. E che cosa leggo però nel pezzo di Gian Antonio Stella? Che questo è una tale emergenza che il femminicidio, nel 2011 erano in Italia 124, 124 sono stati i femminicidi in Italia, non so, 6 mila sono morti sulle strade. Nel 2016, diciamo che sono anche troppi, è ovvio che anche un omicidio è troppo, un omicidio è troppo, una violenza di una donna è troppa, è fuori da dubbio, ma da 124, nel 2016, sono diventati 111, sono diviniti dell'11%, e questo lo dice il procuratore che è andato in una commissione ad hoc, dove Carfagna, Boldrini, tutte unite, abbracciate, dicono che l'emergenza è il femminicidio. Meno 11% è diminuita, sono diviniti anche gli omicidi, dice Gian Antonio Stella, ma è un'emergenza quella di 111 omicidi nei confronti della donna, è una cosa drammatica, che deve essere colpita con le attuali leggi, non con l'aggravanti che qualcuno pensa, devono essere sbattuti in galera le persone che ammazzano una donna, come un uomo, come un infante, ognuno, qualsiasi persona che uccide ha una tragica violenza che lo Stato non può accettare e deve sanzionare, o no? Io me lo chiedo. La Boldrini ha detto, cos'è che ha detto? Aspetta, ve lo dico. Ecco, una crudele mattanza, no, non è una crudele mattanza, la crudele mattanza è un'altra cosa, è certamente un omicidio, è certamente da combattere, ma la crudele mattanza usiamola per altre cose, o no? Visto Boldrini che lei non ha voluto usare la parola che si doveva usare quando c'era l'immigrazione in Italia come invasione. Se è così attenta alle parole, forse crudele mattanza per questi 111 omicidi è un po' troppo. So che questa è una cosa che non vi piace, ma io sono convinto che Boldrini, Carfagna, che ieri un'altra, che assumono un ruolo per rendere emergenziale una cosa gravissima, ma che emergenziale non è. Nel frattempo invece è forse un'emergenza, l'idea che non si possa stare in un resort, l'anno scorso sono morti in un resort in Tunisia, uccise con lo stesso, identica procedura di ieri, mi sembra 89 persone, 89 persone uccise da un signore che è uscito con un kalashnikov da un gommone e ha ucciso 89 persone. Ieri, 14 di luglio, è l'anniversario, non solo della presa da Bastiglia, ma di un drammatico epilogo di un camion non impazzito, ma di un musulmano fondamentalista che ha ucciso 90 persone a Nizza. Questi sono altri discorsi che possono confondere il quadro. Nel frattempo, che ci occupiamo del femminicidio, ci siamo occupati anche di un'altra cosa in questi giorni, e cioè ci siamo occupati del fascismo nella spiaggia di Chiolcia. E è a buon gioco oggi Alessandro Sallusti a ricordare che se c'è un'istituzione fascista, nel senso che è stata fatta dal fascismo e non è il palazzo che ho scritto Dux, non è l'obelisco del Foro Italico, cioè quegli oggetti che vorrebbero essere, che secondo la Boldrini offendono la memoria della Resistenza, ma si chiama Ordine dei giornalisti, a cui anch'io purtroppo devo fare parte. Non posso farne parte, se non lavorassi al giornale potrei esserne completamente fuori, se lavorassi soltanto con questa rassegna stampa su Facebook che mi gratifica molto, ma non mi fa campare. Allora, l'Ordine dei giornalisti che cosa ha fatto? L'Ordine dei giornalisti, residuo appunto del fascismo, ha deciso che Sallusti venga sospeso per due mesi, lo scrive Sallusti oggi nel suo fondo del giornale, nessun altro se ne occupa, ma ovviamente la cosa si diffonderà da domani in poi, venga sospeso Sallusti due mesi dal giornale per aver permesso di scrivere sul giornale, dice Sallusti, senza che io peraltro ancora non lo sapessi, Augusto Minzolini, ex senatore, ex giornalista di punta della stampa, perché anche lui sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Quindi che cosa succede? Che viene sospeso perché ha fatto scrivere un sospeso. Questo è il nostro Ordine dei giornalisti, quello stesso che ha sospeso Filippo Facci perché ha rivendicato il diritto all'odio nei confronti di chi ci ammazza. Andiamo avanti sul fascismo ed è un boxino che è fantastico oggi sul Corriere della Sera. Non è che me la prendo sempre sul Corriere della Sera, lo leggo sempre con attenzione e penso che Luciano Fontana faccia un bel mestiere come direttore del Corriere della Sera. Ovviamente è difficile gestire 54 pagine, ma c'è un boxino sul Corriere della Sera che è una cosa incredibile e in onore di quel boxino oggi mi sono vestito così. E c'è quel boxino che cosa dice? Che ci sarebbe un minculpop, minculpop che è il ministro della cultura popolare appunto fascista a Wimbledon perché avrebbe obbligato un ragazzino che giocava ma anche Serena Williams nei giorni scorsi a cambiarsi di magliette di mutande perché erano colorate. La cosa può far sorridere ma siccome in quel torneo da 140 anni c'è previsto l'obbligo del bianco allora se un giudice arbitro chiede a una persona di cambiarsi perché non si è vestita di bianco così come un tempo ci si doveva mettere la cravatta se si entrava al Senato così come nei circoli ci sono delle regole molto particolari così come anche in Italia ci sono dei circoli in cui si deve vestire soltanto di bianco non vedo cosa ci sia di minculpop nel far rispettare la legge c'è di minculpop qualche cosa cioè c'è di 68 l'idea solita le nostre giornalistiche se ci sono delle regole si possono non rispettare quando fanno cadere loro perché esistono nell'aristocratica in Inghilterra poi dopo invece facciamo sempre i piagnistei sul fatto che non rispettiamo le leggi il minculpop perché Wimbledon vuol fare risputare il bianco che è una delle caratteristiche di quello straordinario torneo che viene fatto sull'erba ma io la trovo una cosa questa sì molto divertente a proposito di rivendicazione dell'odio beh quello che esce oggi in un'intervista di Monti nei confronti di Renzi è molto più di quello che è uscito nei confronti di Renzi nell'intervista fatta da D'Alema ieri sul fatto di cui non ho parlato perché generalmente di queste interviste me ne occupo poco perché quello che esce da queste interviste è che Renzi veramente è odiato da tutti quanti dice le cose secondo lui come stanno e gli altri non glielo lasciano dire beh Monti si limita a dire Renzi che è un disco rotto e che è vile fantastico insomma quando vedi questi che si attaccano a vicenda ti viene abbastanza da ridere sulle ONG le versioni sono diverse oggi leggo sul giornale che qualche concessione sarebbe stata fatta al regolamento italiano che chiedeva che non agissero nelle acque territoriali libiche che non spegnessero i transponder che non accendessero le luci per segnalare la loro presenza di notte per far sì che qualcuno venga sulle barche italiane poi leggo però sulla stampa un fogliettone in cui dice che l'Italia non ha ottenuto che le ONG si obblighino ma l'impegno delle ONG a comportarsi in questa maniera quindi poche sanzioni a proposito di Minculpop insomma se così fosse poca roba nel concorsone leggo sul Corriere della Sera c'è stato fatto un concorsone per far sì che si assumano 250 dipendenti che valutino le domande di asilo questo è il senso dell'Italia cioè assumiamo 250 dipendenti pubblici perché valutino la bontà delle richieste d'asilo degli immigrati clandestini in Italia ce ne sono 133 mila in arretrato non è che si devono occupare degli affari nostri le nostre tasse della nostra polizia delle nostre cose no le valutazioni della nostra giustizia arretrata del processo civile no ormai dobbiamo occuparci del diritto d'asilo degli immigrati perché fanno tre ricorsi primo grado secondo grado terzo grado nel frattempo rimangono in Italia siamo un paese di pazzi ovviamente poi la pazzia nella pazzia fa sì che questo concorso ovviamente ci vogliono anni per poterlo invire quindi verranno presi 250 che si recuperano del diritto d'asilo esattamente quando non serviranno mi auguro più perché saremo stati completamente invasi o avremo fatto qualche cosa per evitare l'invasione non vi sto a parlare troppo purtroppo perché abbiamo già fatto 10 minuti della flat tax ma interessante il pezzo di Nicola Rossi oggi come sempre sul sole non mi convince l'innalzamento al 25% dell'IVA che lui giustifica come semplicemente l'esecuzione di una clausola di salvaguardia che già esiste non c'ho più tempo purtroppo per parlarvi di Legnicini vicepresidente del CSM che dice i magistrati non possono più una volta che hanno fatto i politici ritornare a fare i giudici che mi sembra una cosa sacrosanta e la risposta questa volta anticipata la dà Travaglio con la solita sindrome di Travaglio che siccome Di Matteo si candida col Movimento 5 Stelle non fa altro che difendere Di Matteo il Movimento 5 Stelle i due idoli di Travaglio cioè difende come sempre la scelta del Movimento 5 Stelle il giorno dopo dicendo che non vede per quale motivo non si debba candidare visto che già Grasso presidente del Senato e tanti altri magistrati svolgono ruoli importanti quindi perché proprio per il candidato del Movimento 5 Stelle ha una sua logica quello che dice ovviamente la sindrome di Travaglio oggi ultima cosa che a me affascina moltissimo è sulla verità il mio amico Riccardo Ruggeri mio amico insomma mio buono conoscente Riccardo Ruggeri io lo stimo molto ex amministratore delegato del CNH parte la sua vita da quel sgabuzzino di portineria di un palazzo signorile di Torino e dal figlio di un custode diventa manager assoluto e fortissimo di CNH quindi scala tutti i vertici di un'Italia in cui questo si poteva fare beh dice io oggi inizio la mia battaglia solitaria non proprio solitaria perché come lui la pensiamo in molti contro le 5 felpe che comandano in California che sono Amazon sono Microsoft sono Google sono Facebook cioè i 5 i 5 lui dice la dittatura dei nuovi 5 che hanno questa caratteristica come spesso avviene nell'industria il winner il vincitore take all prende tutto beh insomma la battaglia di Ruggeri contro le felpe oltre che col suo libro che abbiamo letto tutti con attenzione anche nel pezzo di oggi sulla verità di Belpiero è molto interessante leggetevi Gravellini di oggi vi dico solo questo e confrontatelo con quello in cui prendeva per i fondelli Donna Rumma in questo caso dice andate ci sono le scuole dovrebbero i giovani dovrebbero alternare scuola e lavoro in quell'altra ci spiegava che quelli che offrivano il lavoro invece che la scuola erano come si dice spacciatori di posti di lavoro vi do un saluto vi auguro un buon saluto